Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind Allora, finito il calciomercato, ci attende subito una partita di campionato appunto contro il Genova La Gio a Genova Iniziamo Allora, prima di iniziare, cioè mentre qui faccio tutte le osine, voglio dirvi che io sono raffreddato Marce Quindi non so se il tono della mia voce sarà diverso in confronto al solito Comunque, resta rifatto Mettiamo un attimo Blanco a posto di Dragoschi Bene o sì, intanto viene salito Zemala, buono E niente, guardiamo un po' questo Ianasho, questo ritorno, no? Perché non so se vi ricordate comunque, diciamo che l'ho avuto l'anno in cui ero in Serie B Che fra l'altro l'ho allenato parecchio, credo che sia rimasto all'incirca sugli stessi livelli, a livello di caratteristiche Insomma, vediamo un po' se sarà un buon acquisto o se sarà un flop Insomma, iniziamo Sotto l'acqua, classio Attenzione, la lascio Tira Non ci voglio rete Maledetta, tu è ancora finita Vai Castagne Non ci voglio rete Maledetta Comunque è buono, 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 ragazzi, dai Cazzo, 2-0, Iago Farke Finisce così il primo tempo, il primo tempo è veramente da incubo, 2-0 E' veramente un casino Perché se vogliamo almeno fare un punto, insomma, se vogliamo almeno pareggiare dobbiamo fare due gol E non sono pochi, in un tempo Insomma, vediamo un po' cosa accadrà nel secondo Boh, speriamo bene E tira Benassi Eccolo lì Marchino Benassi 2-1 Attenzione, si riapre la partita E andiamo due Poi dobbiamo rimanere Calvin Che, vediamo, sono sempre svantaggio E' ancora lunga E tira Non ci voglio rete Maremma cane Frisch, sì, 2-1 Non ce l'abbiamo fatta Magari Riequilibra la partita Insomma, il video inizia male Perché perdiamo subito la prima partita Però, vabbè Diciamo una sconfitta Vedete, guardate Sotto certi punti di vista A merita Vabbè Andiamo a fare la seconda partita Guardiamo un po' di Rivalta la situazione Perché se non erro Già, sempre parlando il campionato Nel precedente video Concludemmo Perdendo contro il Napoli Ecco E attenzione, siamo addirittura a Sesti Siamo a un punto comunque Dalla zona Champions Però cerchiamo di arrivarci Eventualmente Dai Big match Si va a giocare a San Siro Contro il Milan Guardiamo un po' Che il Milan Se non sbaglio a Sion Mi pare In classifica Però qui c'è la facca che cambia Perché sono stanchi Alla, mettiamo Zemolo Difensore Eh, sì Difensore Diciamo Mediano Benassi a sinistra Il posto di Cerni E perere qua E questa volta invece Gioia Dragoschi Vai Comincia la partita Anche se sarà difficile Cerchiamo di interrompere Questa Striscia di vittorie Anzi Non vittorie Che potrebbero crearsi Se non dovessimo vincere Anche questa partita qua Dai ragazzi Crediamoci Attenzione Arascio Paciccio Non ci voglio rendi Maledetta la miseria Di Aiò Si è rotta Angelino O quella Così Boh Mettiamoci il Chienini Speriamo che non sia nulla di serio Dai Dai 1-0 Chi è? Ma chi è? Beh Aspettate perché Non so Non mi sapevi chi è Eh Mauri Madonna Armi Strungo Come mai devi tirare così? Fuori Meno male A meno Stavolta Puoi Finiscici il primo tempo Anche in questa partita Siamo sotto Ma Boh Meno male A meno di un gol Basta Vediamo un po' Se riusciamo A fare almeno un gol E equilibrare la partita Nel zero tempo Chiaramente Dio Bono Non so di quanto Sia uscita Va bene Dai E dai 2-0 Ma cos'è Via Si è perso Bimbi Se non tira gioco Si si perde Dai Che culo Dai Non ci voglio Redi 3-0 Ma che culo Ma l'avete visto È rimasto lì Andato al giotto Dermila Ovvia Dai Che palle Dio E un'altra volta Da solo Maledetta La miseria Dio Ma dove cazzo È la difesa Ma dove cazzo È 4-0 Cambio Dato che ormai La partita è andata Puttane Si Perché andata Puttane Ma dove cazzo Ma dove cazzo Per farlo un po' Riposare Fai indefiato Metto Marella O si Metto anche Questo vi Vai Tocco No Dizia Istituzione È vero Meno scusate di Angelino Bene o si Oh Parte il fatto che Dragoschi Non ha presa una Ma poi basta Ma basta Ma la difesa Bimbi non marca più Una sega Dai 5-0 Ma che figura di merda Oh E ho idea Frisch Sì Risultato Veramente Imbarazzante 5-0 Tutti i buoni Propositi Che avevo A Diciamo Inizio partita Su questa partita qua Sono andati Clamorosamente A farsi fottere Come usa dire Perché veramente La prestazione è inguardabile È indecente È vero che Sono io che giovo Però bimbi A volte sembra che Il giovo stesso Mi dia clamorosamente Oltre Insomma E Veramente È una partita Buttata via Perché Non dico che era fattibile Perché comunque Il Milan Soprattutto nel gioco Era Una signora squadra Infatti è seconda Però Così è troppo Così è troppo Fra l'altro Si è preso vattro con un tempo Speravo di parigiare Nel secondo Ma niente Insomma La classifica attuale È questa Terzo posto Avantè Manomale siamo sempre Mancano tre punti Boom Vediamo un po' Cosa accadrà Ma qui bisogna Cambiare subito Già dalla prossima partita Che come vedete È contro il Chievo Via Spremmo bene Tanto agire Si è rotto Per quante settimane Ole Allora Iniziamo Questo partito Il Chievo Vediamo un po' Qui c'è gente Comunque stanca Boh Visto Se avete visto Già Gasbar Non è sbagliato Più Già subito Cacci inizia Posteri Mette Ceccherini Boh Speriamo bene Ragazzi Dai Dai Vediamo un po' Di ambia Queste Questo bruttissimo Andamento Lo farò Tira Non ci voglio Red Ragazzi Palo Vai Armstrong No Dai Ma qui Siamo Scherzo Bimbi Vai Traversa Di loro Meno male Cioè Gapetta Ancora finita Meno male Via Non ci ha preso Guardi Meno sta Morta Lui è Mio Mò E vai Finalmente Se ne poteva più L'astronauta Per la prima Mora Con questo Video Ci fa andare In vantaggio No Finalmente 1 a 0 Adam Armstrong Finalmente Lo voglio dire Finalmente Finisce Si il primo Tempo Questa volta Velli in vantaggio Siamo noi Olè Meno male Per ora Chi va a parte Vella zona La traversa Non ha fatto Altro Di periodoso Insomma Speriamo Che anche Il secondo Tempo Sarà così E andiamo A fare Guardiamo Un po' Dio Buono Io nascio Dopo tre Partite Si vede Anche lui Cambio Allora Leviamo Mastur Mettiamo Pereira Leviamo Benassi Mettiamo Zemelo Leviamo Barella Anzi Leviamo Cenni Mettiamo Barella Vai Così Attenzione L'hanno Fatta Vai Vai Attenzione L'hanno Fatta Vai Vai Eccolo Lì Cenni 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 Era più facile Farle Sbagliarlo Ovunque Ho voluto Cenni Particolarmente Fare Falgo A lui Che viene Un po' Se si sblocca Anche perché È arrivato Non è che Ha fatto Non è stato L'impatto Come Mi aspettavo Ecco Insomma Grazie Una zotta Le difensore Siamo riusciti A Falgo Olè Via 2 a 0 Io nascio Finisce così Meno male Siamo tornati alla vittoria Abbiamo almeno Con questa partita Per ora Interrotto Il brutto andamento Che si era creato Ora ragazzi Bisogna vedere Attivino la classifica Come Cioè Come siamo messi in classifica Ecco Com'è E poi un'altra cosa Questa Partita qua La vittoria È servita Abbastanza Perché Anche se Diciamo Che in realtà Non è così Però voglio Far finta Che sia così Serve a dare morale Alla squadra Perché guardatela Contro chi giocheremo E che partita ci sarà Il 15 febbraio Niente Volevo solamente Dì che ha fatto morale Ecco Speriamo faccia morale Alla squadra Insomma Andiamo a fare Qui all'era E poi andiamo a fare La partita In Europa League Che come avete visto Ci vedrà giocare Contro lo Schalke Io ragazzi Come un imbecille L'ho visto Diciamo Tra virgolette Quali siano stati i sorteggi No E punto contro chi Dovevamo giocare In Europa League Quindi diciamo che L'ho visto Prima Grazie Diciamo Alle prossime partite Che ti svelano I telecronisti Comunque Super partita Non è Sicuramente Una partita semplice Quella che ci aspetta Europa League Perché lo Schalke È tutt'altro Che una squadraccia Speriamo bene Speriamo bene Guardiamo un po' Sono diciamo Gasato Perché comunque Era bella squadra Spero sia Anzi Possa essere una bella partita Ma non sono sempre preoccupato Perché Non mi aspettavo Di incontrare subito Questa Questa pig Ecco Comunque Guardiamo un po' Sì Dai No Gasbarro no Anche se prima Diciamo Portato Fortuna Rimetto Ceccherini Per il resto Ci dovremmo essi Dai Però dieci altri Non sono pienamente Diciamo Non sono al piano Delle loro forze Ecco Se vedete Sono quasi tutti Stanchini Un pochino Insomma Iniziamo E speriamo bene Ci siamo Dentro questa nebbia Iniziamo Anzi Riniziamo A giocare Una paliga Abbiamo passato il girone Per grande fortuna Ma dimostriamo A tutti Cerchiamo di dimostrare Che nonostante ciò Non siamo sicuramente Una squadretta Cerchiamo di farci valere Dai ragazzi Non sarà sicuramente Come ho detto prima Una partita semplice Però cerchiamo Di dare il massimo Dai Vola Dragoschi E vai Masturre Non ci voglio redi Maledetta la miseria Dio Buono Benassi Mamma mia Finisci Il primo tempo 0-0 Se invento Tutte e due Le squadre Abbiamo paura Di sbilanciarsi Troppo Per poter Evitare di prendere Il gol Quindi diciamo che Per la partita A parte due occasioni Questa di loro E quella nostra di prima Non è stata Molto emozionante Speriamo che il secondo tempo Si è diverso Magari A favore nostro Insomma iniziamolo Dai Bella roba Vai Akim Tira Akim Non ci voglio redi Dai lì Dai Maremma Buona E vai Maremma Cane e testa Shiny Dai che sono Sbilanciatissimi E vai Ada Arrstrone La sblocca lui A 65esimo 1-0 E andiamo Bella roba E oh Era nell'aria Il gol E si provava A fare qualcosa A noi Anche se Non c'era Per la grande voglia Per la grande aggressività Cambio Allora Andatevi Qui stanno per morire tutti Allora Metto Pereira E Zemelo Anzi E metto anche Barellone Però faccio il suo sovimento Lo sapete Schiocchete E rischiocchete Vai Non ho male Fuori E andiamo Ed è frisca così 1-0 Risultato di misura Ma importante Sia perché comunque Abbiamo Un gol di vantaggio Per il ritorno Anche se Andiamo a giocare laggiù Quindi sarà Secondo me Un po' più difficile E proprio perché Fa morale E è importante Comunque Su 4 partite fatte 2 sconfitte E 2 vittorie Ora Andiamo a fare Quella che credo Sia l'ultima partita Che non so Se No Non lo sapete Perché comunque Quando ho parlato Della partita Era già Sulla giornata Quindi non è che Potevate vedere Anche le giornate successive Insomma Giocheremo contro l'Inter Fra l'Arton Si riposta una sega Perché Subito si è attaccata O quasi Insomma E Quindi Niente Credo che sia l'ultima partita Vado a vedere Perché sinceramente Volevo lasciarvi con Infatti Sia l'ultima partita Perché appunto Volevo lasciarvi con Anzi In attesa poi Della partita D'Europa League Del ritorno E quindi Si è subito Contro lo Shark Si dai Questa qua Contro l'Inter L'ultima partita Appunto Ciò non sta Questo ricidio di parole Brutto che ho fatto Guardiamo un po' Di concludere Il video di bellezza Magari dato che Abbiamo vinto i due Perché no Di vincere anche questa Ovvero Arrivare a tre vittorie Consecutive Insomma Vediamo un po' Cosa accadrà Allora Ora vi c'è da vedere Un po' L'ondizione fisica Di giocatori Perché deve essere Messa malina Infatti Allora Metto Benassi Riva Levo Cenni Che addirittura È già sull'arancione Giallo Metto Zemelo E metto Pereira A posto di Mastur In difesa Levo Gasbar Metto Ceccherini E poi metto Bianco Si bianco Black A posto di Dragowski Si Per il resto Devevo esserci Via Iniziamo Dai Anche se tutte le partite Sono importanti Questa Lo è ancora di più Dato che L'Inter Se non sbaglio Una delle pretendenti Ha un eventuale Posto In Champions League Come noi Del resto Quindi È ancora più importante E appunto Cerchiamo di Fare una buona partita Ma è risoprattutto Dal punto di vista Risultato Dai ragazzi Bella roba E tira Tio Bono De Bravo Comunque Kelly Mi si è garbato Dai Non ci voglio Red Ma mettici la testa Erpia de Varcos Questa è la porta libera Perché andare Dove c'era uscita E vai Garascio Tio Bono De Maremma Cane Si poteva far go Sul finale Del primo tempo Finisce 0 a 0 Il primo tempo Chiaramente Come la partita di prima Il risultato Non è Si il risultato La partita Non è stata Emozionante Anzi Tutt'altro E niente Però Per ora Siamo sullo 0 a 0 Si è preso gol Almeno stavolta E niente Andiamo a fare il solo tempo Guardiamo invece di farlo No Il gol Proviamoci almeno Dai No Dai Ma che dormita Dai Però non si può Fa così Non rimane No Lo voglio rivedere Guardatevi che dormita Qui Blanco Castagne Decidete voi Palacio 1 a 0 E voi Pereira Eccola lì Andres Pereira Così Caliente 1 a 1 Ricordiamo la partita E andiamone Ma lo aspettavo nemmeno io Sinceramente Bello E andiamo Famolo rivedere Dai La scartate due Poi schiocchi di sinistra Che frantola nel mezzo piede E andiamone E bravo Pereira Mamma mia Blanco Meno male Ha salvato il risultato Finisce così 1 a 1 Per come si era messa la partita Meno male siamo riusciti a pareggiare Niente Dalla fine Mi posso ritenere Almeno per Metà Soddisfatto Almeno non si è perso Vediamola Almeno l'Inter Non va via A livello di classifica Insomma ragazzi Come ho detto prima Sperando che abbiate Aprile i discorsoni Che ho fatto Perché già Non so parlare di mio Poi metterci anche Il raffreddore Quindi Ancora peggio Insomma Il video finisce qua Guarda un attimino Mentre parlo Allenare Noi giocatori E Niente Meno male Diciamo la prossima partita Con bacia No sai Hai visto Faccio sempre 5 partite Con bacia Con appunto Il ritorno di Europa League E quindi appunto Vi aspetto Nel prossimo episodio Per vedere Quali saranno Le sorti Per ora Dove siamo arrivati Di Europa League No Andiamo a giocare Appunto Contro Lo shark Ritorno laggiù Fuori casa Vincerà Secondo me Come ho detto prima Forse Un po' più difficile D'andata E niente Quindi aspetto Insomma Arriviamo alle conclusioni Allora Primi se vi ringrazio Per la visualizzazione E poi vi ricordo Di mettere Barra fare Se volete Queste tre cose Allora Mettete un bel mi piace Al video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Perché così facendo Potrete rimanere Aggiornati Su tutti i video Che caricherò Ma soprattutto Su tutti quelli Rente a questa serie qua Ovvero Livorno State of Mind Via Detto questo Vi aspetto Al prossimo video Dove appunto Inizieremo subito Con un big match Con proprio Diciamo Il destino Nostro destino Per ora In Europa League Via Vi aspetto Al prossimo episodio Ciao Ciao Al prossimo episodio Grazie a tutti